Grazie per la prossima, benvenuti alla nuova parte del Pokémon Mystic Dungeons Questa parte abbiamo il conto mani di malte squadra e oggi ci accendiamo per la nuova puntata Buongiorno Ptm Credo che fosse a gangare la sua squadra Ok Gne 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 Archivio 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 Ah Manymite non fare come lo sciopo Ah Manymite non fare come lo sciopo Ah Ma che cosa dai ma lo fai posto Ah Ah Mamma mia C'era così tanto L'ho scafiorito L'ho scafiorito Pa 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 Sunkern Anidron Anidron Oh Ma Ehi Che è successo Ma Ma Perché si Prendono solo Pokedolla Ehi 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 Poké Ma No C'è Si Ecco, si 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 come va eh arrivato l'idolan sento poche tutto ci manca lo è oggi abbiamo il dovere da reposare ok domani le ora Se volete quel video commentate Iscrivetevi un piaccio A domani